1-0 dopo il primo tempo, si ricominciano, si trovano a dover amministrare un vantaggio di un fai. La sfai dentro in porta! E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Grande freddezza, grande tecnica nella sua azione personale, ha fatto davvero tutto alla perfezione. E con questo segna una doppietta, davvero una grande partita.